Ciao a tutti ragazzi, bentornati con Banana su Banana Food & Game, oggi continuiamo Uncharted 4. Allora ragazzi, eravamo rimasti qua. Dobbiamo andare via da quest'isola, ha detto, logicamente, da questa spiaggia, scusate. Se vi ricordate, praticamente, se vi ricordate, scusate, parlo ora un po' ma lancio certe volte. Se vi ricordate, all'inizio del gioco ci aveva fatto fare un po' di spurtillate fra motoscafi e poi alla fine c'eravamo ribaltati. E praticamente ci siamo arrivati ora a questo punto. Sam! Poghiamo pure io, che magari sono niente, non glielo fa. Lì scende il fuoco. Scendiamo qua. Sam! Niente, non risponde, raga. Qua è successo qualcosa di grave. Niente, raga. L'acqua là si fa troppo alta. Non ci sta sempre. Certo, magari lo cercamo un po' meglio, dai. Pure lui non è che saranno messi benissimo, eh, Nate. Non mi ha rimesso proprio una spada a me, eh. Niente. È un po' qua. Ok, qua c'è stata la passata, su sto... ...sta specie di cornicione. Ok. Che c'è qua? Sì, addio le nostre scorte. Che c'è stata? Che cavolo! Però potrebbe essere Sarosema a prendere, ragazzi. Attenzione, eh. È un buon segno. Eh. Vedi, gente, ci sei arrivato pure te. Se ci inoltriamo qua nella giungla selvaggia. Vediamo. Dove cazzo poi si è nato questo? Sam! Buono, buono. Sto parlando da solo. Il primo segno della... Pazzia. Pure questo è vero, Natà. Però pure io parlo da solo ogni tanto, quindi... Allora. Ok. Sta bene. Non si direbbe. Ah, merda! Oh. Mollare, Nate. Non mollare. Allora. Qui... È chiuso. Doh, car. Vaffanculo. Dice sempre Pedalino, ci dice. Al diavolo questo posto. Non gli ha fa più nada, ma è solo per fratello, eh. Andiamo a fare, car. Non mi sarà un figlio. Andiamo avanti, andare avanti. Eh, andiamo avanti, Natan. Eh, qua è finito con Natan. Dopo, dopo no. Se dov'è rampicare qua sopra? Ottimo, 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 dai. Oh, vabbè, mo' che palle, però. Rotte le palle con sti scivolamenti. Su, dai. Lo so, usa l'analogico sinistro. Non me ce... Ah, ok, devo usare lì sopra. Caccelle. Io non ho capito dove cazzo vuole andare questo. Ah, qua. Ecco, scusate. No, Natan, sei noioso. Ottimo. Meno male, è successo qualcosa. Allora. Do sta, Sam? Do sta, Sam? Do stai? Allora, se siamo un po' ripresi? Magari, uomo verso conoscenza, uomo dormito, sono due cose. Ok, magari siamo un po' meglio, mo? Che dici? Allora. Se siamo abbioccati, a quanto pare è finita pure quella cazzo della tempesta, là. O, S, no. È proprio per me, io, Sam. Siamo sicuri che è Sam, raga? Devo raggiungere quella maledetta montagna. Ok. Non muovere, Sam. Stora. Eh, ho capito, lui stava a pensare la stessa cosa di te, vedi rincorriere te indietro come gli scemi. Ok. Mamma mia, come è un cazzato, non è una cosa che è stata sbrigata, oh. Ok. Finiti i posti. Aspettate un attimo. Non si vede niente, Nathan. Ok. Ok. Dai, dai. Sbrigamose. Ok. Allora, ragazzi. qui stessiamo a rampicare sempre di più. Aspettate, eh. Mi sembra di lanciarlo troppo presto. Eh, sarebbe ora. No, merda. Ci sarfavamo sempre per tutta la scufia. Ok. Qua, mezzner, proprio, eh. Arrampicamose, arrampicamose. Ok. Ci siamo arrivati? qui da Sam. Oddio, c'è una nave, la barca è laggiù. Ci sono altri? Altri uomini di Wraith? Esatto. Ok. Mi sembra di lanciarlo. Ah, cazzo. Mi sembra di lanciarlo. Attenzione. Mi sembra di lanciarlo. Mi sembra di lanciarlo. Qua. Speramo che tenga. Allora, io non so se... Ok, sì. per saltare ok no 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 sbrighate 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 ok questo ride ok qua se può scendere ok quello cazzo devo andare aspetta forse tocca salire qua ok adesso che facciamo ok possiamo saltare di qua allora dobbiamo saltare qua perfetto aspetta un attimo fatemi capire ok saltiamo saliamo qua sopra saltiamo di qua ok ora ci dobbiamo sicuramente buttare di qua ok ok e muovare qua dietro sta cascatella ok guarda che cazzo di strada qui che c'è tesoro ok andate qua dobbiamo andare di qua fermo fermo attento che caschi no perché da qua ci sono venuto allora qua che c'è ok ok che cazzo siamo tornati nella giungla qua allora mi tocca arrampicarsi qua ok qua volevi arrampicarti con quegli stivali oh chi c'è lei ok ok andiamo a fare stacca sto coso perfetto sono certo che non ti serve più no lui però magari ci può servire hai ottenuto un chiodo da roccia che culo ok vedi si funziona vedi ah capito ci siamo quasi su superficie porosa ok e poi ok allora siamo arrivati? no cazzo dove stiamo qua? vai lanciate ok 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 dove stiamo? mannaggia la mignota se finisce più lo sai da arrampicarsi e scavarà allora eh no da là ho saltato qua ok scusate non l'avevo visto da qua saltiamo la olè 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 mi è uscito un po' ok merda merda oh poi dimmi qui in arrivo ho visto qualcosa movimento tra gli altri ma mi è tra gli altri ma è carla si muove tutto io non vedo niente ok ok attenzione 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 andiamo ok ok oh cazzo un momento non me lo sono so bravo scemo un tasci suo sarà aggrappato allora lì ce n'è uno aspettate un attimo e qui c'è un altro l'importante è che non fa se vedi ok a posto perchè se noi non fiamo casino ok lì ce n'è un altro vediamo se riesca a piarlo dietro eh però se sti due si vedono non so forse io potrei sparare non lo so aspettiamo un attimo ok aspettiamo un attimo ok aspettiamo un attimo ho fatto vedi ecco basta basta ma te lo tico io li muovo e sparo eh stai dietro stai 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 tu madre da lato ok andiamo andiamo forza ma non mi sto a nascondere scemo ok ok non mi sto a nascondere voi niente brutto scemo dove state ah ecco te ok 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 andiamo andiamo nascondendo perchè te nascondi intanto stiamo a sparare allora 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 da qua no perchè si casca quindi vai se buttavamo da qua ok ok perchè mi hai derutito io li muovo e sparo subito ok mi hai derutito tutte le palle cioè ok ragazzi guardate un po saliamo qua sopra allora lo state oh cazzo mica vi sti vieni qua, vieni, vieni oh, venite, venite, venite dobbiamo mancare un po' di movimento ok ma, oh cazzo, è cecchino il cecchino ok, vediamo un po' portarci vostra ok, mori quello che spara quella sorta di missili oh, tu che cazzo sei, lander non mori mai, oh ok, poi dei colpi l'hanno presi non ce ne abbiamo tantissimi, ma ce la dovremmo fa ok non ce l'ho paura io da qua casco però se riesco ok bello, quanto mi piace questo fucile a me mi è capitato qualche capitolo precedente bello proprio oh, te la lasci, Nathan che non mi fa? ok non ce l'ho sapevo non ce l'ho sapevo dove stiamo qua ok ok quanto cazzo è qua? sto natano ok ok dai, dai, dai e adesso niente sapia il mondo del culo tutto qua non fa un culo pure uccelli ci si mettono allora rampighamose per fare una cosa nuova qui che c'è? apri un po' ok vabbè non c'è un po' riponi e chiudi vieni ok qua c'è niente se dovemmo arrampicare qua mamma mia che palle ehi che vita ne merda ok mo ah, è brutta per me troviamo qualcuno che ci punta a qualcosa dai esem per poco non ti ammazzavo Sam stai bene? sì sono ancora in piedi meno male è bello che tu sia già è tanto andiamo un tesoro ci aspetta un attimo Sam che stiamo facendo? che vuoi dire? voglio dire che le scorte sono sul fondo dell'oceano indiano allora andiamo a rubarle all'esercito di Latina sì, a proposito siamo noi contro un esercito ottimo però ce la siamo cavata bene finirei dispersi in mezzo a nulla stavamo cercando di venire qui sì, ma avevamo un piano di fuga senti la puttina è brutta raga perché non scendiamo e rubiamo una delle barche di Reva e se la andiamo le barche aspetteranno sai perché siamo qui? perché la mia salvezza ha un prezzo ok? e per saldarlo entreremo in quella giungla e troveremo Libertalia tu hai trovato qualche traccia di un'enorme colonia pirata perché io non ho visto nulla e un po' tardi per il riposo ok ragazzi Nate si sta un po' si è demoralizzato l'idea che il progetto di Avery di un'utopia pirata è fallito e ci siamo lasciati trasportare da questa suggestione invece di trovare una reale soluzione al tuo problema se taccerò quest'isola palmo a palmo si serve finché non troverò il tesoro quindi se sei confuso sul motivo ho capito Sam però tu poi rompi così i coglioni cioè fate le domande che ha visto che c'è porca puttana vuoi ancora andare a casa? vediamo che altro scopriamo mazzanette ha fatto tutto il galletto sei rigirato? allora ragazzi io per oggi mi fermerei qui e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao